Ancora alberi caduti a Salerno. È accaduto stamattina quando sul comune capoluogo così come previsto dal bollettine o meteo della protezione civile si è abbattuto un forte vento che ha causato la caduta nei pressi della villa comunale a pochi passi dal teatro verdi di alcune grosse piante. L'episodio è stato naturalmente occasione per mettere il dito nella piaga della mancata manutenzione del verde pubblico mentre sotto palazzo di città anche stamani è stata in corso un'iniziativa di protesta degli ex dipendenti delle cooperative sociali quelle ferme e che si occupavano proprio della gestione del verde. Per fortuna nessun passante è stato colpito ma non possiamo continuare a sperare nella buona sorte ha fatto notare Catello Lambiase capogruppo del Movimento 5 Stelle al comune di Salerno. Lo stato di incuria del verde pubblico è sotto gli occhi di tutti. I parchi pubblici sono chiuse e da molte parti della città arrivano denunce richieste di aiuto per lo stato di pessima manutenzione degli alberi alcuni intralciano la strada impedendo ai mezzi pubblici di transitare in sicurezza altri coprono lampioni rendendo le strade buie altri ancora rischiano di raggiungere i balconi e le finestre dei cittadini. Lambiase ha dunque rivolto un appello affinché si trovi una soluzione ricordando al comune di Salerno che aveva annunciato la piantumazione di nuovi 150 alberi che non basta trovare una soluzione temporanea per ridare ai cittadini la possibilità di godere del verde pubblico e non è più rinviabile un piano straordinario di messa in sicurezza delle alberature urbane. Quello che è successo stamani in pieno centro a Salerno conclude Catello Lambiase è l'ennesimo monito che arriva dai possibili danni che l'incuria del verde può causare.